Oh, ma tu non vuoi proprio capire una parola di quello che ti dico. Come faccio ad aiutarti a riacquistare quell'ambecile se ogni volta che lo vedi ti comporti come un pagliaccio? È stato un incidente, ok? Non mi aspettavo proprio di vedermelo davanti. Cercava di far colpo sui suoi genitori. Vestito in quel modo. E lei l'hai vista? Tagliavo il cibo in pezzettini piccoli, piccoli, piccoli. Una scena da vomito. Oh, sì, sì, l'ho vista. Era... Era cosa? Era... Ah, ok, io ho capito cosa vuoi dire. Io non sono abbastanza sexy. Oh, no, io non ho detto niente. Dovrai fare la ragazzina con il broncio che dice sì quando intende no e no quando intende sì. Ma non lo so fare, ok? Felice, sorrido, triste, mi acciglio. Io uso la faccia che corrisponde alla corrispondente emozione, ma tu no. Tu vuoi una donna sexy, misteriosa, magliatrice? Oh, ma io non ti voglio così. Io non ti voglio così. Allora cosa vuoi? Io ti voglio... io... io ti voglio... Tu mi vuoi? Ehm... 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 Ehm...